Un alieno viene mandato sulla terra per analizzare le cause del fallimento della sinistra in Italia e della sua estrema conflittualità. L'extraterrestre si scontra con un sistema politico vecchio, autoreferenziale e avverso ai temi della modernità. Tra metafore e fantascienza, senza far nomi ed alludendo sempre, Federico Lobuono racconta in Un alieno a Roma il punto di vista di un giovanissimo alle prese con un mondo antico, che avrebbe necessità di rinnovarsi e non ne trova la strada. Ma Federico Lobuono, nato a Lecce 21 anni fa e trasferitosi a Roma 16enne, oltre che autore del libro, è anche già un politico che prova ad aprirle queste strade per le nuove generazioni. Prima la community dei Pischelli in cammino, poi le start-up editoriali, infine l'impegno diretto per Roma, fondando nel settembre 2020, assieme a un gruppo di ragazzi, la Giovane Roma, una lista per le elezioni amministrative del 2021 della capitale. Un alieno a Roma, insomma, è anche un grido di battaglia per la prossima campagna elettorale, che lo ha visto chiudere, dopo essersi inizialmente candidato a sindaco, un'alleanza con Roberto Gualtieri. Questo, nonostante Lobuono, con la sinistra capitolina ci vada veramente giù duro. Lei ha ragione quando dice che il libro ci va duro, ma perché era giusto che ci andasse duro. Il libro è una critica a un sistema politico arroccato su tematiche obsolete e che non lascia spazio alle nuove generazioni. Io mi sono candidato a settembre, quando nessuno lo voleva fare, quando la retorica che passava su Roma era che Roma è una città ingovernabile, che non valeva la pena candidarsi e che tanto valeva metterci qualcuno da buttare a mare e regalare la città agli avversari. Io mi sono candidato sindaco di Roma per combattere, all'epoca, parliamo di un anno fa, la retorica per la quale i giovani non sono più quelli di una volta, i giovani non hanno voglia di fare, stanno tutto il tempo a casa, sul divano a giocare i videogame. Bene, io volevo invece dire che non era così, che là fuori c'è una generazione nuova, che ha voglia di farsi sentire, che ha voglia di mettersi in gioco e abbiamo lanciato per questo motivo una lista, la giovane Roma. Poi, come diceva giustamente lei, ho conosciuto Roberto Gualtieri, ho conosciuto un uomo in grado di ascoltare, in grado di coinvolgere e abbiamo detto bene, allora a questo punto non possiamo, le prossime elezioni a Roma saranno uno spartiacque, il prossimo sindaco di Roma sostanzialmente potrà affossare definitivamente questa città o provare a ridarle un po' di gloria. Abbiamo detto bene, non possiamo lasciare Roma a qualcun altro, dobbiamo metterci in gioco seriamente, abbiamo deciso di sostenere Roberto Gualtieri in questa operazione. Torniamo al libro, in realtà che cosa rappresentano le intenzioni di Lo Buono? È un po' uno sfogo, è un po' uno sfogo di un periodo che io ho passato, sono stato iscritto prima al Partito Democratico, poi a Italia Viva sono scappato dai partiti perché, come dicevo prima, è impossibile provare a mettersi in gioco, è impossibile provare a farsi sentire, ci sono nel libro, ne parlo, io li chiamo i sotto ufficiali, che ogni volta che c'è qualcuno che prova a fare qualcosa a mettersi in gioco sono lì pronti a metterti i bastoni tra le ruote. Quindi il libro è soprattutto uno sfogo, dopodiché io spero che potrà essere utile magari ai leader dei partiti perché sono convinto del fatto che il problema io lo racconto da sinistra perché sono ragazzo di sinistra ma sono convinto che sia un po' ovunque, un po' in tutte le forze politiche, spero che possa essere in qualche modo il manifesto di una generazione che è stanca di stare a guardare e vuole mettersi in gioco. Ora le elezioni, qualche esempio di punto programmatico qualificante per i giovani romani? Roma non è una città universitaria, molti diranno ma come, ospitiamo alcuni degli atenei più grandi d'Europa, anche del mondo, ma non è questo il significato di città universitaria. Uno studente che si laurea a Roma, in quali aziende potrebbe avere l'ambizione di andare a lavorare ora che sono andate tutte via? Uno studente che potrebbe andare a studiare a Roma, come potrebbe farlo nella città in cui il caro Fitti, il caro Libri, il caro Vita rende per qualsiasi studente fuori sede impraticabile l'idea di stabilirsi qui a Roma? Allora è su queste proposte che parte la nostra candidatura.